Un comunicativo a cura dell'amministrazione comunale di Fermo. Buongiorno a tutti, 9 e 5 minuti, siamo in diretta, prosegue la mattinata di Radio Fermo 1 all'insegna dell'informazione. Abbiamo ospite, come sempre, il sindaco di Fermo, Nella Brambatti. Buongiorno sindaco. Buongiorno e buongiorno a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori. Bene, allora ricordiamo prima di tutto, prima ancora di iniziare, il numero telefonico per contattare il sindaco Brambatti e porre le vostre domande. 0734 62 0707, salutiamo Mary Piero Agostini alla regia. Sindaco, ripercorriamo questa settimana che si conclude proprio in queste ore con un evento quanto mai importante. Noi abbiamo titolato su Informazione TV che fa di fermo la capitale del Made in Italy nel mondo, perché di fatto è così. Ma partiamo da una conferenza stampa che lei ha voluto convocare insieme. Noi l'abbiamo chiamata conferenza stampa a comuni unificati, perché di fatto è venuto fuori questo accordo a Roma durante l'assemblea ANCI, in cui voi sindaci avete espresso la necessità, e poi tramite questa conferenza stampa appunto si è stata concretizzata, di far conoscere ai cittadini qual è la situazione finanziaria reale dei comuni. L'incontro che abbiamo avuto con tutti i sindaci a Roma, almeno i sindaci dei capoluoghi di provincia, i presidenti regionali dell'ANCI è stato per fare un'ulteriore analisi di quella che è la situazione dei comuni, e trasmettere sia un documento al governo, sia anche palesare attraverso una conferenza stampa, che hanno sostenuto i sindaci quella che è la nostra situazione. Che cosa abbiamo fatto? Attraverso anche le conferenze stampa abbiamo illustrato un po' la situazione nella quale emerge come dato fondamentale quello che l'indebitamento del comune e dei comuni in generale, rispetto in toto, rispetto all'indebitamento dello Stato è veramente esiguo, perché è del 7% e del 7%, mentre invece i costi dei comuni sono sul 2% per quanto riguarda i costi dei comuni, e le province addirittura stanno all'1 vincolo 2. Quindi questo che sta a significare che da un lato i comuni e le province non sono quegli enti che determinano direi la situazione debitoria dello Stato e la situazione di precarietà in cui stiamo vivendo adesso. Un'altra cosa che è emersa in maniera molto chiara è che a fronte di un enorme sacrificio che stanno facendo e hanno fatto i comuni, vale a dire col patto di stabilità, quindi mantenendo direi una cassa più che pingue, investendo meno, cioè contraendo meno mutui e anche comprimendo le spese, di fatto vede per contro la situazione direi del governo centrale che invece ha aumentato le entrate e mantenuto costante le spese correnti. Questo sta a significare che questo dato è motivato in modo particolare da che cosa? Dall'alta tassazione che hanno i comuni i quali sono costretti a sanare la situazione dello Stato senza che da parte dello Stato ci siano degli impegni. Ieri sera appunto si stava facendo, faceva riferimento poco fa a questo grande, importantissimo convegno che c'è a livello nazionale, questa mattina al Teatro dell'Aquila ci sono tutti gli imprenditori che aderiscono all'asso calzatori, calzaturifici di Confindustria, un confronto quanto mai importante soprattutto in questo momento anche di incertezza dei mercati e diciamo all'incontro al quale si è presente stamattina il giornalista Paolo Mieli, era anche presente ieri sera e in un intervento che lui ha fatto ha tenuto a precisare, diciamo sulla base delle sue valutazioni che in effetti i costi sono quei costi eccessivi che attengono non certo agli enti minori, agli enti locali ma piuttosto al governo centrale, è la pubblica amministrazione di alto, direi di alto grado che sta mangiando le risorse e la necessità di intervenire anche per operare delle strategie di risparmio potrebbero essere anche quelle minori, vale a dire i costi eccessivi dalle auto di servizio, dalle indennità da tutti quei costi che eliminandoli potrebbero invece contribuire a risanare la situazione del Paese Tra l'altro Sindaco in queste settimane la stampa locale si è divertita un po' a fare i conti in tasca a consiglieri regionali, assessori, amministratori regionali e locali ed è emerso che comunque il Comune di Fermo e la provincia di Fermo si distinguono per risparmio venivano riportati il fatto di un solo autista e il fatto che molte spese erano state contrate allo stesso tempo però il Comune prima di tutto rappresenta l'ente più vicino al cittadino diciamo che quando c'è un problema il cittadino ha come riferimento il Sindaco quindi ecco l'importanza proprio dell'aspetto finanziario di far capire comunque che il Comune in realtà è l'ente che nella piramide diciamo si trova quasi alla base perché è di vicinanza del cittadino però allo stesso tempo è l'ente che nel momento in cui c'è da risolvere qualcosa è il primo, parliamo anche di maltempo ad esempio, a dover intervenire anche finanziariamente finanziariamente tra l'altro senza avere nessun tipo di riconoscimento di rimborso faccio un esempio per quanto riguarda l'alluvione quella che c'è stata nel 2011 noi ancora non abbiamo avuto riconoscimenti per quelle cifre ne parlavamo ieri perché discuteremo alla fine della settimana prossima il riequilibrio di bilancio e lì le operazioni che noi facciamo sono del meno del meno in quanto abbiamo innanzitutto un'incertezza totale su quelli che sono i trasferimenti e rispetto a quelli ipotizzati ne arrivano sempre meno ed è difficile far quadrare un bilancio quando non possiamo nemmeno iscrivere quello che normalmente dovremmo alla luce di dispositivi di legge o di contabilità che noi abbiamo per esempio per quanto riguarda l'emergenza io devo dire ancora stamattina un grazie ai volontari della protezione civile perché ieri sera malgrado noi non fossimo stati allertati dalla regione per possibili emergenze ma considerata tutta quella pioggia che c'è stata soprattutto nel tardo pomeriggio fino alle 8 chiaramente il contatto telefonico con i volontari è stato continuo i volontari malgrado tutto e malgrado l'assenza di allerta sono usciti hanno fatto il percorso la città andando ad osservare quelli che sono i punti critici e quindi ecco il lavoro e anche quanto di sicurezza può essere dato ai cittadini in qualche modo dipende molto dal volontariato molto meno da quelli che sono gli interventi anche per esempio le spese che noi sosteniamo per la protezione civile non vengono dai trasferimenti centrali ma sono anche quelle ricavate nel budget comunale ecco in un periodo in cui anche il capitolo del sociale rappresenta un punto intoccabile perlomeno è fondamentale garantire finanziamenti anche sotto quell'ambito ma c'è stato anche un incontro mercoledì mattina dove è stato presentato un report diciamo su quello che è il bilancio di tutti i comuni della provincia di Fermo ed è emerso proprio questo dato vale a dire che l'unica spesa che non è stata compressa è quella legata al sociale anzi è stata incentivata perché abbiamo dei fondi povertà dei fondi emergenza che dobbiamo mettere a disposizione dei cittadini anche per sanare delle situazioni a volte immediate non prevedibili quindi dobbiamo essere pronti a sostenere attraverso delle leggi anche regionali le cosiddette povertà e anche le drammaticità però bisogna anche tenere nel cassetto quanto può servire per aiutare una famiglia per pagare magari un'utenza del gas e dell'energia elettrica ecco prima di cambiare argomento sindaco pensa che comunque la gente che ci ascolta riesce a capire effettivamente quelle che sono le difficoltà che un ente locale deve affrontare cioè come far passare questo messaggio ormai è opinione comune che la politica viene attaccata su più fronti la pubblica amministrazione c'è ancora una concezione antica della pubblica amministrazione come il posto fisso garantito quindi uno stimolo basso lavoro in realtà come far capire alla gente di tutti i giorni alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento concretamente cosa significa oggi in questo periodo avere a che fare con una macchina amministrativa così imponente perché diciamo che il territorio di Fermo è un comune talmente variegato che va dalla costa all'area montana quindi con tante problematiche e allo stesso tempo appunto si deve raffrontare con il patto di stabilità e il rispetto comunque di questo patto di stabilità che come sappiamo rappresenta un vincolo molto grande per voi sindaci ma la situazione di Fermo è molto particolare io non lo so fino a che punto io in qualche modo qualche volta ho pensato che forse un cittadino può rendersene conto nella misura in cui magari per una giornata seguisse me perché è lì che uno tocca con mano la reale situazione perché veramente le risorse sono diminuite in maniera incredibile ora la città è la città non è una città compatta sotto il profilo del territorio posso dire a parte Porto San Giorgio ma anche San Benedetto quindi è una città che comunque ha delle direi dei nuclei satelliti e ognuno con le proprie caratteristiche e ognuno con le proprie esigenze quindi la pianificazione diventa estremamente difficile nella misura in cui proprio le esigenze si rivelano come diverse da un quartiere all'altro un esempio fondamentale su come sia difficile gestirlo è quello legato per esempio al problema delle scuole ora noi non abbiamo avuto contributi da parte dello Stato e da un lato invece c'è un'esigenza a metterle a norma nel riequilibrio di bilancio che discuteremo la fine della settimana entrante praticamente una scelta fondamentale è stata quella di mettere in conto una cifra abbastanza alta per noi in questo momento proprio la messa a norma delle scuole le scuole sono 30 ora in una città che può avere lo stesso numero di abitanti praticamente non ci sono 30 scuole nel senso che esistono degli istituti che accolgono numeri più grandi di scolari o di studenti il possibile accorpamento in questa città qualora avessimo la possibilità di farlo disponendo di somme delle somme necessarie sarebbe in primo luogo direi una difficoltà di accettazione da parte dei quartieri che vedono nelle scuole proprio il nucleo formativo più importante anche un'identità esatto quindi la scelta è manteniamo le scuole così come sono collocate faccio riferimento a Campiglione che poi tra l'altro ha buone strutture faccio cioè l'abbiamo a Santomaso l'abbiamo a Lido di Fermo l'abbiamo a Capodarco l'abbiamo a Salvano l'abbiamo a Torre di Palme senza contare quelle che sono all'interno del centro storico ora l'accorpamento potrebbe determinare un'economia di tipo diverso ma nello stesso tempo determina un vuoto all'interno dei quartieri allora la scelta la scelta condiziona anche gli investimenti perché comunque sia è chiaro che se tutte le scuole ci devono essere tutte devono essere garantite bene Sindaco intanto io ricordo 0734 62 0707 per le vostre domande restiamo in un ambito tecnico poi passiamo in conclusione alleggeriamo parliamo di eventi eccetera eccetera il Termarche ha accolto il ricorso fatto dal comune di Fermo insieme a quello di Monturano per quanto riguarda l'applicazione della disposizione regionale che obbligava a creare questi ATA che cosa sono Sindaco e cosa ne pensa appunto di questo risultato allora l'ATA innanzitutto c'è il cosiddetto ATO l'ambito territoriale ottimale che praticamente coincide con la provincia gli ATA sono delle assemblee territoriali d'ambito che è stata creata da questo punto di vista con la funzione di creare un unico ente per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e questo per disposizione della regione un'applicazione della legge regionale che prevede creare un ente di gestione che è diciamo presieduto dalla provincia quindi dal presidente della provincia ed è il quale fanno parte i comuni ora noi abbiamo fatto ricorso come comune di Fermo dicendo che la possibilità di convenzionarsi o di creare diciamo degli accordi tra i comuni dovrebbe essere però tenendo conto di quanto è descritto nella legge prima ne ancora nel decreto 95 del 2012 il quale fa riferimento a un assunuto di vieto di creare ulteriori enti e quindi l'opposizione che è partita dal comune di Fermo era quella di dire guardate già siamo fuori legge rispetto alla legge regionale l'applicazione della legge regionale era anteriore invece alle disposizioni della nuova legge per cui abbiamo detto guardate sì possiamo essere insieme per quanto riguarda la raccolta ma non siamo nelle condizioni o non possiamo creare ulteriori ulteriori enti gestori ora avendo noi rifiutato di approvare la convenzione in consiglio comunale siamo stati commissariati dalla regione Marche nel frattempo però è partita il ricorso a Tara da parte del comune di Fermo di quello di Monturano il comune di Fermo ci ha dato ragione per cui a questo punto siamo a questo punto siamo un punto a capo vabbè comunque diciamo che comunque è stata una difesa una difesa importante sulla base di questo principio che da un lato diciamo no a creare a sovrastrutture visto che siamo nelle condizioni di poterci gestire tra l'altro facendo riferimento a che cosa a un diciamo un'applicazione del principio della 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 convenzione tra comuni l'abbiamo approvata diciamo anche è stato un passaggio in consiglio comunale ricordo che per quanto riguarda il sociale il sociale viene gestito attraverso la figura di riferimento che è il comune di Fermo per tutto l'ambito 19 quindi l'ambito sì è la 19 che raccoglie tutti i comuni della media valtenna quindi già sperimentazioni da questo punto di vista ci sono il comune di Fermo lo fa per conto di altri senza creare da questo punto di vista ulteriori organismi aggiuntivi perfetto quindi abbiamo chiarito anche questo aspetto anche perché comunque un modello esistente funzionante c'è il sindaco che è appunto quello di cui ci ha appena parlato nel sociale quindi perché in un momento dove la burocrazia comunque già in Italia diciamo che pesa perché andarsi a complicare tra l'altro poi per quanto riguarda la questione della raccolta di rifiuti non è assolutamente una delle competenze anche alla luce delle nuove attribuzioni di legge alle province non è quella va bene allora sindaco andiamo ad oggi la giornata di oggi la vede prima di tutto impegnatissima già è arrivata al telefono sempre all'indaffaratissima perché perché il territorio oggi è ricco di eventi è ricco di eventi sia oggi che domani partendo dal convegno nazionale di calzaturifici che ci sarà fra poco quindi lei tra un po' dovrà andare al teatro dell'acqua ad accogliere quelli che sono gli imprenditori italiani della calzatura perché d'italia si parla e non solo perché vengono sono stati invitati anche tutti i comparti che ruotano attorno al mondo della calzatura fermo capitale del made in italy così abbiamo intitolato su informazione tv ieri e l'altro ieri abbiamo intervistato santori sagripanti li abbiamo sentiti ecco cosa significa per fermo oggi ospitare un evento del genere ma per fermo penso che sia una cosa importantissima perché in effetti è il territorio del fermano faccio riferimento in modo particolare a monte urano santo elpidio porto santo elpidio casette che diciamo un territorio nel quale si è concentrata e si concentra l'eccellenza del made in italy per quanto riguarda il settore della moda in modo particolare della calzatura quindi a mio avviso è un grande riconoscimento che viene dato a questo territorio perché io vorrei parlare di territorio e non solo della città e per un confronto che è assolutamente importante perché se da un lato noi abbiamo un'eccellenza che ci pone su dei livelli altissimi a livello mondiale diciamo il mercato ormai è globale è anche vero che proprio per la necessità di difendere questa eccellenza del made in italy e di crearsi degli indotti che poi rappresentano direi un ritorno al lavoro una possibilità anche di avere nuovi ingressi per i giovani e quindi il confronto è fratto tra imprenditori che di fatto così come abbiamo avuto modo di conoscere ma anche dialogando con loro e fare l'analisi della situazione vedere fino a che punto i mercati stanno rispondendo agli stimoli e soprattutto partire da un presupposto che una politica coesa e fatta tutti quanti insieme è importante proprio perché ci sono ci sono direi anche non dico minacce ma ci sono anche la Cina rappresenta quindi c'è assolutamente messaggero c'era proprio la notizia che comunque parla di operai in meno quindi una riduzione di posti di lavoro quindi comunque il territorio va difeso e questo è fondamentale eventi come questi sono la risposta io direi sono delle riflessioni veramente serie quindi dare la disponibilità il confronto perché in un territorio che tra l'altro è stato all'avanguardia e pilota è riconosciuto come direi per certi versi la culla e vorrei ricordare anche che a lungo proprio per la tipologia diciamo delle aziende delle aziende artigiane e questo nostro questo nostro territorio è stato un esempio a livello nazionale proprio per anche tipologia di impostazione dell'economia locale con le piccole aziende ora le evoluzioni sono tali che vediamo che non ci sono più quelle situazioni ottimali di 20 anni fa e quindi è giusto che gli imprenditori anche perché dal loro dibattito possono emergere ed emergeranno senza altro delle ulteriori proposte da fare al governo perché in effetti difendere il Made in Italy in modo particolare che poi tra l'altro sindaco lei viene dal mondo della scuola e io credo noi forse lo diamo spesso per scontato ma il rapporto che si è venuto a creare tra scuola e fermane mondo dell'impresa quindi calzaturificio non è così facile da trovare altrove no no debbo dire che giusto ieri ieri parlavo di questo con il il past president dell'assasso calzaturieri e calzaturifici e il quale faceva invece lamentava questa assenza di scambio tra il mondo della scuola parlava di Vigevano parlava di Busto Arsizio dove i percorsi formativi incontrano delle grandi difficoltà proprio perché si lamenta una forse non adeguata io direi non partecipazione dei docenti ma uno stacco che comunque c'è tra i docenti e invece il confronto con la capacità operativa delle aziende cosa che invece per quel che ci riguarda mi pare che sia non avvenga nel senso che ormai sia le scuole sia le aziende hanno recepito questa necessità di poter fruire poi successivamente dei buoni diplomati solamente nella misura in cui i diplomati entrando nell'azienda e cominciando a lavorare si rendono conto e quindi magari trasformano in capacità operative quelle che sono i percorsi formativi teorici e il tutto senza campanilismi ovvero scuole di fermo che collaborano con Monte Granaro Monte Granaro che chiede aiuto a Porto Sant'Epidio Sant'Epidio Amare che si rivolge a Fermo quindi una bella rete formativa Devo dire che la rete nasce dai comuni nasce dalle scuole quindi c'è un sistema direi di scambio che io lo definirei eccellente Allora abbiamo qualche minuto ancora parliamo di olio perché domani Fermo si trasforma da capitale del Made in Italy a capitale dell'olio quello di qualità Sindaco Sì dalla conferenza stampa di ieri è emerso questo che mentre c'è stata una grande attenzione per quanto riguarda la produzione del vino che è arrivata a livelli di eccellenza non è stato un percorso analogo per quanto riguarda l'olio facevano riferimento ieri al fatto che la produttività molto spesso è quasi di natura ubistica per cui c'è il proprietario che ha alcune piante e produce dell'olio dice quello per sé e quello per qualche amico manca invece questo percorso che deve essere invece potenziato della produzione dell'olio soprattutto di certi oli particolari che che caratterizzano soprattutto alcune direi specie di olivi per esempio parlavano di quello di falerone e che dovrebbe andare sul mercato con la stessa sicurezza quindi anche sul livello produttivo del vino praticamente la produzione dell'olio rispetto al bisogno è di gran lunga inferiore qui non è sufficiente la proporzione è veramente la sproporzione grande e quindi è un momento per presentare la nostra produzione anche c'era un invito secondo me fondamentale proprio per quanto riguarda l'olio siamo meno attenti a diciamo a gustare le differenze che ci sono tra quello anonimo del supermercato e diciamo del supermercato perdono non voglio dire questo di quelle produzioni diciamo della vendita della vendita di massa esatto che molto spesso arrivano anche dall'estero rispetto a quello locale quindi è anche un invito a a prendere coscienza che bisogna anche essere attenti e sensibili a gustare la qualità dell'olio e anche partire da questo presupposto che insomma l'olio è anche importante per i valori nutritivi che ha non diciamo dosato con attenzione non ingrassa perché può dire l'altro giorno alla festa dell'albero nell'altro ieri c'erano i bimbi e ai bimbi appunto è stato offerto anche pane e olio ecco quindi domani è una giornata a 360 gradi dalla formazione la possibilità di acquistare quindi con il mercatino di col diretti degustare anche quelli che sono i nostri oli e rendersi conto di quanto buono una volta che il palato si è abituato a questo sapore particolare carico che poi tra l'altro reggevo che uno dei modi per degustare l'olio a parte il pane è il riso e fermo già con il riso quindi abbiamo abbinato riso e olio meglio di così possiamo farlo comunque io penso che poi tra l'altro anche importante per la col diretti un'altra cosa a cui vorrei fare riferimento è che rispetto al passato c'è un io direi un grande ritorno verso l'agricoltura chiaramente è un ritorno verso l'agricoltura di qualità e ci siamo resi conto che anche quello può essere un settore importante importante per il nostro benessere quotidiano ma anche perché attraverso la buona qualità possa parte anche direi quella promozione dei nostri prodotti fuori del resto ormai stiamo vedendo che si affiancano si intersegano tra possiamo andare alla scarpa ma insieme alla scarpa possiamo avere l'industria che nasce dal turismo dal turismo anche all'alimentazione e quindi anche questo è un passo importante bene sindaco la lascio libera perché stasera poi non l'abbiamo detto ci sarà anche il presidente della camera del parlamento albanese è altra cosa bella vedere le bandiere dell'Albania sventolare l'idotrearchi in questa festa che coinvolge sia la comunità albanese che quella locale è un altro valore aggiunto per questo territorio ne sono convinto sì anche perché per loro è molto importante questo fatto che il loro grande direi il simo il nostro Garibaldi potrebbe essere Scandenberg che è stato direi trovato c'è questo quadro di Scandenberg che è a Palazzo dei Priori nella sala dei ritratti è stato individuato così in maniera fortuita e da lì si è poi creato questo grande scambio direi culturale e anche politico oggi verranno appunto i rappresentanti ufficiali dell'Albania abbiamo uno scambio con Berat e quindi diciamo cerchiamo di mantenere vivi i contatti anche se poi l'interesse diciamo dell'amministrazione è quella di tenere i contatti e essere presenti con tutte le comunità straniere che sono qui potremmo dedicare una puntata alla Fermo internazionale invitando un po' alle varie comunità si perché no organizzeremo va bene grazie sindaco Brambatti abbiamo sforato ma non fai niente a te a te parliamone insieme spazio comunicativo a cura dell'amministrazione comunale di Fermo